Siamo qui per onorare questa tradizione di Maiori e dei luoghi della costiera marfitana che il giorno di San Giuseppe Lavoratore si andava nei giardini, nei campi a festeggiare questa giornata per il lavoro duro che si compiva tutto l'anno. Applaudo all'iniziativa che ha avuto Don Gennaro dalle parrocchie delle frazioni di voler ripristinare questa festa e ha pensato di farlo all'aperto facendo una benedizione solerne qui al castello di Toroplano di Maiori che è uno dei luoghi più ameni e più spettacolari del nostro territorio che abbaraccia proprio tutte le frazioni dall'alto. Quindi è il simbolo della gente che vuole ritornare a vedere le tradizioni come una fonte di nuova speranza e di nuovo guadagno per il futuro. Speriamo che da oggi possa riavviarsi questa iniziativa e che un domani non lontano ci rifaccia rivedere di nuovo i turisti dalle nostre parti.